Sei pronto a regalare ai tuoi clienti innovazione e semplicità? Fidelizza i tuoi contatti e acquisiscine di nuovi. A Cava dei Tirreni c'è SCF Group. L'Arena del Fuenti ospiterà quest'estate la rassegna Passaggio Sud-Ovest. Sì, sono sei appuntamenti che si svolgeranno nell'arco di tutta l'estate. Repreapre l'Arena del Fuenti e sono sei appuntamenti che hanno al centro il valore della parola. La parola nuda che è la parola teatrale, la parola assente che è la parola melodica della musica strumentale e invece poi la parola cantata che è quella dei veri e propri concerti incentrati sulle canzoni e sul repertorio di artisti molto radicati nella nostra cultura popolare. Quindi è una rassegna che cerca di restituire senso alla parola prestando attenzione una volta tanto all'ascolto e alla responsabilità di dire una parola chiara. Tra gli ospiti possiamo vedere lei e poi anche Enzo Avitabile e altri musicisti. Sì, io sarò in realtà ospite del concerto di Enzo Avitabile e si tratta di un vero e proprio concerto di Enzo avendo lavorato appunto l'anno scorso assieme e io ho scelto appunto di non partecipare essendo direttore artistico assieme a Michelangelo Busco come artista. Però poi ci sono gli appuntamenti con Danilo Re e Paolo Fresu che aprono la rassegna poi c'è Tony Servillo con Servillo Legge Napoli poi ci sarà un artista nuovo perché noi da direttori artistici abbiamo anche l'obbligo di proporre qualcosa di nuovo nel quale crediamo profondamente.